Giulia Nova presenta il cartellone degli eventi dedicati al Natale. Un Natale che come per molte altre città sarà a costi ridotti, ma che stupirà per qualità e offerta. Basti pensare che il 27 dicembre protagonista sul palco sarà il cantautore Fabio Concato. Per la prima volta il Palacastrum ospiterà un concerto di musica a metà, tra classica e leggera, con l'orchestra sinfonica di Bari e con Fabio Concato. Cultura attraverso un trekking urbano che consta nell'attraverso dei musei civici di Giulia Nova e anche una serie di avvenimenti come la presentazione del libro di Antonio del Giudice, domenica 7 dicembre, e anche la possibilità di guardare una bellissima mostra fotografica sulla Siria prima e dopo la guerra. Ed è l'opportunità non soltanto per i giuliesi, ma anche per gli abruzzesi e coloro che dovessero trascorrere le feste nella nostra regione di poter partecipare a questi eventi. Mostre, spettacoli, intrattenimento ottenuti grazie all'aiuto di privati che regalano così l'atmosfera del Natale alla propria città. C'è una grande partecipazione di chi volontariamente, e parlo dei privati, si è adoperato per creare questo pacchetto di offerte che si intersecano tra cultura, divertimento, aria aperta. E in questo devo dire che la formula novità di quest'anno non sta soltanto nello stabilire una serie di elenchi di manifestazioni da parte del Comune, ma anche di quelle attività che operano sul territorio comunale. In questo senso desidero veramente ringraziare il Museo d'Arte dello Splendore, la piccola opera Caritas, che hanno voluto stabilire con il Comune un contatto che mi auguro sempre più proficuo. Grazie.